Io vorrei dire su un palazzo per un po' di l'anno, perché appena ho visto l'ultimo di questa giornata, mi ha fatto un'inversione subito a queste cose che si chiama. Allora, se se ho un'invito di un'invito, se mi accorna di un'invito, crede che queste mesi sono state tolte in una minuscara, ma non è stata un'invito di grande, non è stata un'invito di grande, quindi anche la forma di raccontare, di qualche, è l'aspetto visivo della struttura. E allora, in questo caso, è l'aspetto visivo della struttura urbana, quindi del risultato urbano, che nel nostro caso sono i due ponti, il mercato, la piazza, il torno all'altro. Come una miscela dei secondari, traversali, quello che noi riferiamo, gli stupi, 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 gli stupi. Quale era, diciamo, la mentalità di effettuare quello polo in questo certo modo, con questa forma? E allora, direi che in questa forma, la mentalità o la teologia, quale è l'anima di questo polo d'arte, con questa forma? Che a te, a te, a te ci mi sembrava, credo che questa domanda, è una domanda anche della maggior parte del discorso qua, perché noi, a nostra collaborazione, ci lo abbiamo fatto con questa persona. e allora, quando ho cominciato a creare la, l'avventura delle intercorsi, delle spiaglie, ci sembrava che in questo caso è una gente di artistia, che è il mio primo problema, che è un senso di questo, che è un senso di questo,